Poco dopo ce n'è uno molto simile. Passiamo adesso al versetto 25. Acazia, notate, qui eravamo a Damasco, quindi gli Aramei. Adesso andiamo in Israele. Nel dodicesimo anno di regno di Yoram, figlio di Aqab, in Israele, Aqab, vi ricordate, è stato il peggiore tra i re di Israele di quei secoli. Marito di Jezabel, la bunanimo, bravo, la bunanimo proprio. Aqazia, figlio di Yoram, divenne re di Giuda all'età di 22 anni. Regnò un anno a Gerusalemme, quindi dura poco, fanno fuori alla svelta. Sua madre, Atalia, ecco perché merita di essere sottolineato. Sua madre, Atalia, era discendente di Omri, re di Israele. E quindi, chi era Omri, re di Israele? È il fondatore della dinastia regnante in Israele. Per chi è nuovo, quando diciamo Israele in questi contesti, non si parla mai del popolo di Israele, ma del regno del nord. Uno dei due regni nel quale il popolo di Israele, le dodici tribù, sono divise. Le dieci tribù del nord, Israele e della Palestina, dette o regno di Samaria, regno del nord o regno di Israele. Invece l'altra tribù, Giuda, o regno di Giuda, o regno di Gerusalemme, o regno del sud della Palestina. La dinastia regnante in questo momento, quella appunto di Yoram, che è l'attuale re di Samaria, è stata fondata da Omri, che è padre di Aqab. Quindi chi è Atalia? Sorella di Aqab. E che fine ha fatto questa sorella di Aqab? Era finita moglie del re di Giuda. Un discendente della casa di Davide aveva sposato lei. E lei ha avuto un figlio, Aqazia e parecchi altri insieme. E cosa fa Aqazia a Giuda? Ma scusate, se Atalia, da quel che appare poi, da come vanno le cose, era figlia di Omri, era stata educata come Aqab, Aqab è un'idolatra connaturato, c'era nel sangue, Atalia, le mie tammei, è come avrà educato i suoi figli Atalia. Da idolatri. Ma sono discendenti di Davide? C-S-N-F. Nessere discendente di Tizio di Caio non è una garanzia di niente, signori. Non ci sono garanzie. In riferimento né alla religione, né alla fede, né all'onestà, né alla... È vero o no? Vantare la propria discendenza vuol dire non avere motivi per dire meritami di essere rispettati. Penso volentieri che succede. Succedeva allora, si può vedere anche oggi, no? È vero o no? E comunque, come conseguenza, Aqazia, re di Giuda, la parte buona di Israele, potremmo dire, no? Agì come la famiglia di Aqab e anche lui andò contro la volontà del Signore. Cioè, si porta l'idolatria nel centro stesso di Gerusalemme, in modo ufficiale. Non per nulla era imparentato con la famiglia di Aqab. Il commento proprio molto distaccato, molto disinteressato, dell'autore biblico di Masan Fagaki. Buon sangue non mente. Ti vede solo che senderei, no? Ecco, insomma, il proverbio è più o meno di sé. È vero o no? Aqazia andò insieme con Ioram. Tutto sommato sono cugini. I due re sono cugini. A combattere contro casa il re di Aram. E qui i due filoni si incontrano. La battaglia si svolse a Ramoth di Galad. Ioram fu ferito dagli Aramei e si ritirò nella città di Israel, che è il luogo nel quale suo padre e sua madre hanno sempre utilizzato come reggia e dove sua madre, Gedravele, continua a fare la regina madre lì. Non si è mai spostata a Samaria, che era la capitale ufficiale, per farsi curare le ferite che aveva ricevuto Arama dagli Aramei durante la battaglia con Kazael. Poiché le ferite di Ioram, figlio di Aqab, erano gravi, Aqazia, figlio di Ioram, re di Giuda, andò a trovarlo a Israel. Sono cugini. Stanno combattendo insieme, sono lì con i loro due eserciti. Uno dei due viene ferito, l'altro fa come sta, cosa succede, a che punto è. Nel frattempo, mentre il re è a Israel, che ci cura le ferite, capitolo 9, il profeta Elisio chiamò uno dei profeti e gli disse preparati a partire, prendi con te questa boccetta d'olio e va a Ramoth di Galad. Quando sarai arrivato, troverai Eu, figlio di Josaphat, nipote di Nimsi. Prendilo in disparto dai suoi compagni e portalo in una camera isolata. Versali sul capo l'olio della boccetta e pronuncia queste parole. Ti consacro, re di Israele. Poi apri la porta e allontanati senza perdere un istante. Scappo! Questo giovincello, questo discepolo di Eliseo, andò a Ramoth di Galad. Arrivò mentre i capi dell'esercito erano in riunione, perché persa la battaglia, non è persa la guerra, ma bisogna organizarsi, fare il punto della situazione, studiare una nuova strategia, eccetera, eccetera. Ho una cosa da dirti, comandante, disse. A chi di noi devi parlare? Chiese Eu, che è comandante dell'esercito. A te, comandante, rispose il profeta. Eu si alzò e entrò in casa. Il profeta gli versò l'olio sul capo e pronunciò queste parole. E che gantacca è una bella fetta. Il Signore Dio d'Israele dichiara, ti consacro re del mio popolo, re d'Israele. Sarai tu a distruggere la dinastia di Aqab, tuo padrone di un tempo. In questo modo vendicherò tutti i miei profeti e i miei servitori fatti uccidere da Jezabele. I discendenti di Aqab devono sparire. In tutto Israele eliminerò dal primo all'ultimo ogni maschio della famiglia di Aqab. Tratterò la sua famiglia come quella di Geroboamo, figlio di Nebat, e come quella di Baasa, figlio di Achia. Il corpo di Jezabele non avrà sepoltura, ma sarà divorato dai cani nella campagna di Israele. E detto questo, il profeta aprì la porta e corse via. L'unica fatta, aprì la porta e corse via. Ma prima grattacca, donna, un vagu. Che senso ha questo annuncio che il profeta fa così, così sviluppato? Allo scopo di convincere Yehu che quello che farà, distruggere la famiglia di Aqab, è volontà di Dio. Sì o sì? Rappresenta come fosse stato l'ultimo. La finestra del capo è stata un po' fatta male, si è distrutta con il suo. E quindi? Merita la punizione. Merita la punizione. Se Dio pulisse gli uomini per quel che meritano, Aschie... Eh? Allora sì che sarebbe leader. Non di pianger. Sarebbe pianger. Signori, chi racconta questo episodio? Lo racconta come qualcosa che deve ancora avvenire o come qualcosa che è già successo? È già successo. E quando il racconto riguarda fatti già successi, attribuire a Dio la volontà del male, che senso ha? Cos'è che vuol dire l'autore con questo meccanismo, con questo escamotage letterario? Mettere in bocca a Dio la volontà. Che, fra l'altro, è il profeta che ha a nome di Dio, ma se ne inventa lui il giovincello, né? Perché è il signore che mi ha detto, tu farai, un giro e via. È lui che ci ha attaccato tutto. Ma comunque, al di là di questo, che senso ha? Tutto quello che lui deve fare alla famiglia di Aqab, deve farlo per volontà di Dio, e per realizzare così quello che il profeta aveva annunciato a Aqab, se non cambiava strada. Se tu continui così, finirai così, 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 così e così. Che senso ha? È spingere Yehu a fare quel che farà? È giustificare Yehu per tutto quello che farà? Lui mette la pulsa nell'orecchio, consacrando lo re. Nota la differenza. Mentre a casa, nel profeta, dice, mi ha fatto sapere che tu sarai re. Con Yehu non gli dice che tu sarai re. Lo consacra addirittura. In fondo fa con Yehu quello che Samuel aveva fatto con Davide, a suo tempo. Lo consacra al re. Poi, nell'altro caso, è stato Davide lasciare tempo al tempo. Yehu vedremo cosa fa. Ma a me, che prima di più, è quello che riguarda la famiglia di Aqab. Notate, all'epoca di Aqab, che si ricorda pure a casa, andate a rispolverare quei capitoli là. Ci sono pochi capitoli precedenti. Le minacce fatte a Aqab erano sempre condizionate a che cosa? Se tu non cambi. Quando il male è annunciato come futuro, sta a dire, stai provocando la tua rovina. Ti avverto, puoi cambiare. Se cambi, tutto questo lo eviti. Aqab è cambiato un pochino, ma non abbastanza, tanto da far scivolare per un po' le conseguenze delle sue scelte. La famiglia di Aqab nel frattempo, dopo di lui, è cambiata, il figlio è cambiato, ha continuato nello stesso stile. Jezabel è cambiato, ha continuato nello stesso stile. E questi comportamenti, pian piano, provocano proprio la rovina. Vengono a scalzare le fondamenta del consenso. Visto che si tratta di un re, di una regina, se non c'è consenso da parte del popolo, insomma, o diventa un dittatore sempre più sanguinario, se no, riamo men che... Questo è il dato di fatto. Ma attribuire a Dio nel racconto qualcosa di negativo, conseguenze per la famiglia di Aqab, che è già successo. Attribuire a Dio la volontà che succeda, cosa vuol dire? Che sia sempre presente. Bravo. Nonostante la famiglia di Aqab abbia fatto di tutto in tutta la sua esistenza per allontanare Dio dal popolo di Israele, in realtà Dio è sempre rimasto presente, e anche per la famiglia di Aqab c'è comunque in atto un progetto di salvezza. che la riguarda, nonostante tutto. Quindi, questo è uno di quei casi in cui leggi una cosa e lo vedo Dio notro, perché l'autore è preoccupato di che cosa? Di fare... stai dicendo? Sì, è una delle chiavi di lettura questa qua. Il male messo in bocca a Dio, o volontà di Dio, dichiarato volontà di Dio, se è annunciato come futuro, vuol dire la strada che è intrapreso ti porta lì, ti avverto quindi, puoi anche evitarlo, se ti cambia. Se si descrive qualcosa che è già successo, un male passato, vuol dire l'uomo avvertito non è cambiato, si è rovinato, ma Dio restava presente anche per lui. È il linguaggio biblico che non è il nostro. È una delle differenze culturali pesanti proprio su questo piano. Per cui uno che legge il racconto così, dice, ma non che Dio, che Dio è questo che, ecco. Penso volentieri capita. Non è Yeh che inventa questo, è l'autore biblico che cerca di farci ragionare. Ecco, di fatto però, qual è il problema? Che quello che Yeh farà è quello che ognuno che subentrava all'altro faceva in quel caso. Perché? Perché se tu ne lasci anche uno solo, c'è pericolo che quello, un domani, è questo il problema. O lui, o qualcuno che si serve di lui per metterci al tuo posto. E se elimini tutti, risolto il problema. Molto umana la cosa, è purtroppo. Beh, Stalin, in altro contesto, a livello ideologico, anche lui, ha fatto fuori tutti gli altri. Tartroski e Tsiota, 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 Tsiota. Castro ha fatto la stessa cosa. E la tonda, chi vuole comandare, vuole essere l'unico a comandare, o trova il sistema di imbrigliarli, o se no, provate a pensarci. Tsiota, 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 Tsiota. Tsiota, 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 Tsiota. Tsiota, Tsiota, Tsiota. Tsiota, Tsiota, Tsiota. Tsiota, Tsiota, Tsiota.